21-15, può ripartire Lucarelli, Colaci in difficoltà a travizzare, recupera e serve Plotnischi, passa sul mura 3, a difesa di Giannelli, poi rischia di pasticciare Trento, riesce comunque a rimetterla di là, Isinac con il pugnetto, Plotnischi, palleggio nella metà campo di Trento, arriva Isinac che senza nero ripara le piccole distrazioni di poco prima. Sì, sì, c'è stata un po' di confusione, c'è nel capo o nell'altro, a certo punto quelli di Trento rischiavano di deconcentrarci perché stavano protestando su un secondo gioco di Travizza, poi però Giannelli si è accorta che l'Isinac era senza muro e l'ha servito, facile per il tempo.